Fine settimana intenso per le ragazze di danza e ginnastica Kodokan. Tre gare, 35 ginnaste impegnate, ben 38 podi, di cui 16 oro, 14 argento e 8 bronzi. Al Palafusco Angri, nel campionato individuale regionale Silver LE, categoria A4, Marianna Buono, della società GR Ponte Cagnano di Vania Santoro, e tesserata per quest'anno con il sodalizio valdianese, conquista un oro, mentre nel campionato regionale Silver LE, categoria A3, Maribel D'Alessandro conquista un argento, ed infine, nella categoria J1, Ludovica alla greca si accaparra una sesta posizione. Al Palacoscione di Nocera, al Grand Prix Libertas, le 35 ginnaste in gara ottengono brillanti risultati. Bellissimi i primi posti per Clevia Petrillo, Anna Maria Mabrodin, D'Andrea Mila, Sofia Arato, Miriam Marcone, Francesca Cimetti, Giulia Ventre, Giussi Sofia Votta, Arianna Rizzo, Giulia Romano e Samira Coviello. Secondi posti invece per Sara Votta, Felicia Petrullo, Soraya Viviano, Roberta Romagnano, Serena Utieri, Martina D'Ambrosio, Elvira Passarella, Roxama Esposito e Spera Federica. Terzi posti per Asia Labriola, Maria Sole Satriano, Alessia Binetti, Nicole Sasso e Russo Gabriella. Buoni piazzamenti ai piedi del podio per Lucia Arlotto, Maria Luisa Primavera, Sabrina Coda, Mariangela Menta, Valeria Ramunno, Francesca Esposito e Elenia Savino. Tantissima emozione quindi, ma anche tantissima gioia e soddisfazione negli occhi di queste giovani ginnaste, che hanno dato il loro meglio, impegnandosi al massimo nella loro primissima esperienza agonistica, grazie ai tecnici della Federazione Ginnaste, Piera Villapiana e Angela Capozzoli che le seguono.